Arriva anche alla Spezia il PSR Tour della Regione Liguria, il progetto per rappresentare ad associazioni di categoria ma anche agli agricoltori. Che cos'è questo nuovo piano di sviluppo rurale e soprattutto che cosa contiene? Intanto a che punto siamo? Sì, direi che è una grande soddisfazione per la Regione essere riuscita entro fine anno uno ad aprire 5 bandi, uno destinato agli investimenti, uno ai giovani, uno alla trasformazione, uno per i GAL e uno per il ristoro di Daniele Luvionali, questa misura molto sentita nel Savonese e nel Genovesato. La seconda soddisfazione è essere riusciti entro fine anno a girare ogni provincia, almeno un attapo su ogni provincia per spiegare cosa c'è in questo piano di sviluppo rurale. I milioni sono tanti, sono 313 che verranno utilizzati in questi 7-8 anni fino a circa il 2023. Noi in questa fase cerchiamo di spiegare quali sono le misure aperte, quindi i bandi aperti e come fare ad accedere. Ci sono molte difficoltà attualmente per l'accesso dei piccoli imprenditori, comunque gli imprenditori non piccoli perché modesti, ma perché hanno piccoli appezzamenti e quindi hanno maggiori difficoltà. Noi siamo ben consci, lo sappiamo, ma stiamo già lavorando per fare in modo che nessuno rimanga escluso da questi finanziamenti e quindi che tutti possano accedere e aumentare anche le dimensioni aziendali. C'è un momento particolare dal punto di vista climatico riguardo alle temperature di questo inverno, in questi giorni gli agricoltori e l'associazione di questa zona hanno anche un po' lanciato l'allarme perché c'è preoccupazione. Ci sono delle misure dedicate anche ad assicurazioni in questo senso? Certo che sì, tanto c'è anche ad aggiungersi a questo PSR regionale c'è anche il PSR nazionale e qui ci sono delle misure, ci sono circa 2 miliardi e 400 milioni e sono a dividere chiaramente tra le regioni, buona parte di questi sono per le assicurazioni, quindi suggeriremo oggi, spiegheremo largamente come fare per poter accedere anche a questa misura che si va a sommare a questi milioni che già sono dedicate alla regione Liguria. Sul tempo purtroppo qui non possiamo farci nulla, se raccogliamo segnalazioni di allarme in alcuni territori, stamattina eravamo in Peria dove mi hanno manifestato che sia la ginestra che la mimosa quest'anno hanno grosse difficoltà, addirittura non si sa se si riuscirà ad arrivare alla festa della donna, della mamma con le mimose, sarà dura, vediamo cosa succederà. Grazie. 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 Grazie.